Raffreddore Notte insonne, naso che cola Ho anche un po' di mal di gola Vorrei dormire, ma è lunedì Attendere dovrò il volger del dì Spalmata ad un guento al mentolo Mando giù paracetamolo Basta attendere che faccia effetto Non c'è bisogno di stare a letto Via i sintomi del raffreddore Dice in tv l'imbonitore Ebbene, mezz'ora è passata Perché sono ancora acciaccata Dice in tv l'imbonitore Dice in tv l'imbonitore